Musica Musica Il nostro discorso me lo conoscete tutti Noi siamo quel confetto di ragazzi che perde le proprie giornate a cercare di recuperare, di rivedere dei canti, delle poesie, le musiche e le tradizioni di questa terra Questa terra che è conosciuta nel mondo come terra dei fuochi Ebbene in questa terra dei fuochi sono nati questi due progetti Uno è quello giovanissimo della compagnia Solidazione, l'altro è quello molto meno giovane dei Vianona Il nostro obiettivo non è quello di cantare o di candicchiare per far ballare la gente Il nostro obiettivo principale è quello di ricordare a chi è nato in questa terra il tesoro che ha avvistato e che ha avvisato solo perché ci è nato Quel tesoro che molto spesso delle teste di cazzo che abitano poco a poco in Arco di Roma Pensano o vogliono pensare di potercelo rubare Dalla terra dei fuochi con amore, con passione, con convinzione I Vianova e la compagnia sono in passione Un pochettino le mani per favore Un, due, un, due, tre, va! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.